E sono la peregina, e sono qui da stamattina, sono la peregina, sono qui da stamattina. Tutte le operaie mi hanno già comunicato che le appi stanno morendo, tutto questo sta accadendo, tutto questo sta accadendo. Sono molto preoccupata, perché l'ape va salvata, sono molto preoccupata perché l'ape va salvata. I diservanti sono inquinanti, sono deliranti, allucinanti, i pesticidi sono omicidi, sono omicidi. Gli ammazzano anche te, ammazzano anche te, ammazzano anche te. Gli ammazzano anche te, ammazzano anche te. Per la verdura, sarà dura, una sciagura. Gli ammazzano anche te, ammazzano anche te. Tra le antenne e i cellulari, non doniamo negli alveari. Noi ci perdiamo, e ci abbassiamo, senza più forze noi restiamo. Siamo bambini, siamo piccini. Ma i problemi li cambiamo, raccontiamo del destino delle api. Ma i problemi li cambiamo, raccontiamo del destino delle api. E ci saldiamo, e ci saldiamo, e ci saldiamo. E ci saldiamo, e ci saldiamo. E ci saldiamo, e ci saldiamo. E ci saldiamo, e ci saldiamo.